Finalmente la maggioranza di questa giunta seria ha calato la maschera con le parole della consigliera Luzzi che si è espressa contro il carnevale e l'affano dei Cesari. È il pensiero dei consiglieri di opposizione Santorelli, Garbattini, Aguzzi, Del Vecchio e Cucuzza secondo i quali sindaco e ossessori stanno camuffando una finta amicizia con l'ente carnevalesca. La consigliera Luzzi che si dice praticamente disgustata dal carnevale e dall'affano dei Cesari probabilmente non è neppure mai stata l'affano dei Cesari perché dice cose inesatte parla di 15 giorni di arresti domiciliari per chi abita nella zona quando si esaurisce tutto in due giorni dimostra anche di non poterne apprezzare gli aspetti culturali della manifestazione come era cresciuta negli ultimi anni con conferenze, con scuole per i bambini quindi parte didattica, con accampamenti alla rocca malattestiana o le mura ma è proprio vero che questa maggioranza non si sente proprio sua nella fana dei Cesari né nel carnevale. Da una parte il sindaco e la giunta strizzano l'occhio alla carnevalesca cercano di ammiccarsi le simpatie di chi lavora tutto l'anno al carnevale dall'altra c'è un progetto per invece togliere tutte le manifestazioni della tradizione popolare fanese come è successo in quest'estate che è stata la più calda degli ultimi cent'anni da un punto di vista meteorologico ma la più fredda, triste e buia per la città di Fano per quanto riguarda gli eventi e le manifestazioni Santorelli poi ha definito ridicolo l'incontro tra il segretario dei giovani di serie Edoardo Carboni e il sindaco stesso per il tema della musica nei locali noi non chiederemo alcun incontro al primo cittadino, ha dichiarato il consigliere ma invitiamo gli esercenti che lo hanno esposto a rimuovere il cartello vietato ballare, affisso dopo la richiesta dei vigili inviati dentro i locali da questa amministrazione Non è contemplato da nessuna norma del testo unico per leggi di pubblica sicurezza nei locali di intrattenimento musicale, quindi non di pubblico spettacolo nessuno può vietare, se vuole un giovane o un qualsiasi fruitore avventore, di muoversi a ritmo di musica quindi veramente siamo ad una dittatura buia per quanto riguarda le feste, l'animazione, la musica e il divertimento di questa città